Laudetur Jesu Christus, Ave Maria, sempre da Filotea di San Francesco di Sales, consigli per le amicizie. Visto che siamo in terreno di amicizie, sentite che passaggio tremendo, ma molto molto attuale, perché i Santi sono sempre attuali. Perciò bisogna mettere in pratica la parola che il Salvatore ripeteva e che gli antichi ci hanno insegnato. Sii abile, cambia valute, batti buona moneta, ossia non accettare il denaro falso con il buono, nell'oro di bassa lega con l'oro fino. Separa il metallo prezioso dal vile. Fa attenzione quindi perché nessuno va esente da imperfezioni. E che motivo c'è di ricevere alla rinfusa difetti e imperfezioni dell'amico assieme alla sua amicizia? Stai attento, è evidente che bisogna volergli bene nonostante le sue imperfezioni, ma non bisogna voler bene alle sue imperfezioni e prenderle su di noi. L'amicizia richiede che ci comunichiamo il bene, non il male, il bene, non il peccato. Che dire, i Santi ci insegnano molto, questo a dimostrazione, l'amicizia e il volemose bene, no, non funziona come oggi si pretende. Stiamo molto attenti e le imperfezioni si ama la persona, ma quanto alle imperfezioni il peccato stesso non si può amare, non lo possiamo prendere per buono, per moneta falsa, è una moneta falsa, va bene? Ringraziamo a San Francesco di Sales e buona festa della Vergine Santa di Lourdes, a tutti quanti e soprattutto agli ammalati. Grazie, laudetur Jesus Christus, Ave Maria.